Ma voi non rimanerò, faccialo, che mi vorrei, mi hai fatto stare qua. A primo tempo quasi un'unque, anche ad Aventino con la veniva avanti 2-0 su Tascoli. C'è quello che fu, del Cali, tra Fazio e Recepic. Un gol, il gol di Icarini, il primo gol segnato da una giocatore di Vicenza non si ha uno dei tre d'attacco. Sono molto riattaccati, sono raggiunto su questo campionato, vediamo che ci si trova un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa.